Credo che sia estremamente interessante partire da queste riflessioni per iniziare il nostro camp perché riuscire ad affrontare, a discutere e riconoscere quelle direttrici di sfruttamento e di predazione che avvengono all'interno della nostra vita in qualsiasi contesto è quello che è necessario più che mai oggi. Penso che il fatto di aver anche avuto la possibilità di affrontare queste questioni da molte prospettive e anche il fatto di cercare di costruire, come è il caso dell'esempio di sullevamento della terra dei punti di leva, riconoscere delle tematiche che sono universali quando si parla di terra, quando si parla di quelli che sono i beni comuni sono delle tematiche universali che devono essere poi quei ponti che ci permettono di costruire quelle alleanze su un piano globale ma anche su un piano di distruzione di quei confini che il capitale crea, di quelle divisioni che il capitale crea per invisibilizzare, per creare una gerarchia da cui produrre valore, produrre sfruttamento e produrre oppressione. E io spero, ma credo che sia chiaro da tutti gli interventi, la volontà è quella di una resistenza, quando si parla di questi mondi è una resistenza che non è una resistenza che è solo una risposta a quest'attacco alla vita che vediamo su ogni piano l'abbiamo visto sul tema della nocività, l'abbiamo visto sul tema dell'accapparamento della terra sul tema dell'energia ma è qualcosa che va oltre, è qualcosa di creatore, è qualcosa di attivo è la volontà e credo che stia anche in questo il punto che sollevava Noël rispetto alla questione della transizione è la volontà attiva e creatrice di costruire il mondo diverso costruire il mondo diverso significa anche costruire un alfabeto diverso costruire la propria narrazione c'è un testo che mentre sentivo gli interventi mi tornava alla mente che è provincializzare l'Europa di Chakrabarti perché la divisione tra centro e periferia è una delle grandi divisioni quando si parla di campagna, quando si parla di città è una delle tante divisioni che emergono bene, il momento per riuscire ad avere, come si dice sempre l'unica soluzione è la rivoluzione e ovviamente la rivoluzione deve essere trasfeminista deve essere antirazzista e deve essere anticapitalista però per esserlo deve essere in grado di distruggere gli strumenti del capitale perché non è solo how to blow a pipeline bisogna essere in grado di distruggere anche quei meccanismi riconoscere e mettere in luce quei meccanismi di sfruttamento ma anche di sussunzione culturale di appropriazione culturale e sussunzione delle lotte delle terminologie delle lotte e costruire una narrazione diversa che esiste già nei territori è un unico tema che, l'ultimo appunto che volevo sottolineare è il fatto che dentro questo io accennavo al discorso della composizione ecologica e credo che anche dentro sullevamonde la terra sia un discorso molto importante loro parlando con i compagni e le compagne mi parlavano di ragionare secondo bacini versanti quando si parla di beni comuni quando si parla del fatto di appunto decostruire e decolonizzare il nostro immaginario è fondamentale che noi distruggiamo un'altra divisione che non è solo quello centro periferia ma è anche quella società in natura e quindi ragionare dentro i nostri ecosistemi vedendoli in una maniera differente la nostra azione politica non divisa secondo una geografia amministrativa di città, periferia e piccole o grandi industrie ma rispetto a quella geografia culturale e fisica che la definisce che definisce veramente e realmente il nostro mondo ben prima del capitalismo e molto dopo del capitalismo di quell'accidente storico che è il capitalismo bene, noi dobbiamo essere in grado di accettare questa sfida riuscire a costruire assieme quella cassetta degli attrezzi quella diversità e portare in luce tutti i mondi che abbiamo dentro e soprattutto portarli fuori trovare connessioni trovare ponti fuori dentro gli ecosistemi che viviamo in relazioni e in attivazione grazie mille